Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo in Wizard of Game ed oggi siamo nello speciale 100 iscritti Anche ci siamo arrivati a 130 iscritti Allora, oggi siamo due, tre, no una, non due, ma addirittura tre sfide Siamo nella vizio penalti challenge, la cavallo challenge di dare un rigore con una maschera da cavallo e poi la crossbar challenge, visto che hanno eliminato il video, quindi la rifacciamo Ok, io vi auguro una buona visione e un buon video Allora ragazzi, cominciamo con la dizzi penalti challenge, Valerio che sarà al portiere Coppa? Grazie Coppa, no, non mi conosco La posada Allora, non posso alberci E' un pollo. Ci perdo, non lo sto Sentiamo a tocare Vedo, vedo Vedo e traganmi Ajve, vedo Adesso le conozco Vedo 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 e la para ok ora lo caricato ragazzi vai fare un bambuino in calore bambuino fuori scopate scopate bomba tira bala di filtro no Ti giri? No, 20.000 20.000 Mattimone Se hai vinto hai vinto Se segni hai vinto Allora ragazzi Ora c'è la La cavallo Dovrò tirare il bigone Con la maschera E c'è il gol No Si Segnato Si segnato Vai Sulla luna un asello della nanda Vai Timone No è entrata No È entrata E che c'è Il gol Quindi siamo Uno Uno Io uno Riccardo uno Timone zero Nicola zero Tocca a me Tocca a me Tocca a me Il gol Tocca Da la narice destra Tocca a me Aiuto Tocca a me 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 sapevo, vai Riccardo ha vinto ha vinto vince 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 e vince, ok Niccolò farà 0 sicuramente vai vai al primo colpo l'ha presa aspetta che era un rigore piattato secondo tiro per te e non l'ha presa adesso deve prendere un altro al limone e mi faccio il cuore mi faccio il frate vai Niccolò è una traversa vai Simone è un filo profondo rincorsa vai vai che è come no 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 vai vai no 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 Grazie a tutti.